musica 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 waila ragazzi ciao da nick e bentornati qua su farcry primal ragazzi siamo qui con la nostra mitica tigre dai denti di sangue che mi ha fatto penare non poco nello scorso gameplay mi ha fatto cagare e insomma mi ha fatto penare non poco nello scorso gameplay per riuscire a domarla ora se io con la tigre riesco a scendere per di qua vado ad accoppare un paio di udam che ho visto sono qui vicino ho mancato ma che cacchio stato cioè mi stai a dire che mi stai a dire che un maiale mi ha attaccato ah non ne ho la più palli dei te guarda ok oh quanto sangue mazza quanto sangue ci sei passato tu qua vero? di la verità cosa ho fatto? si sta allaccando tutto ok ragazzi allora mi sono segnato praticamente un posticino da dover liberare io c'ho una tigra dei denti di sangue quello che è però quando poi gli animali li d'uomo diventano diventano incapaci quando quando ce l'hanno con me mi massacrano quando devono ammazzare gli altri ah oh basta maiali ah basta io credo che sono stato attaccato da eh si cacchio brutto maiale suino vegetale andiamo che cacchio ho detto lol che è? ah dai pure la puzzola qua ho scosto mio dio sti sti tassi quanto un tasso elevato proprio mamma mia sarà sarà un'accisa sto cosa un tasso andiamo belva dai forza seguimi e ti pareva che non arrivavo dalla parte di sotto vero? chi è? oh mi ha fatto cacassotto eeeh oh uccidi nemici accendi la pila la pila la pila la pila oh 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 non lo vedo ma dove mi sto cagando sotto no quello c'ha l'elmo non l'ammazzo oh questi c'hanno l'elmo dai piga quello lo fa la tua belva non può raggiungere il bersaglio oh merda aiii ma ha sentito ma ha visto solo lui una parola è andato se accendo la pila la pila la pira oh oh mi sa che qualcuno no no non ce n'è un ninja non ce n'è no se quello chiama ad altri no non dovevi chiamare nessuno dobbiamo fare una cosa tra di noi brutto schifoso mo chi ha chiamato o zio o zio gigi a me con l'arco non mi batte nessuno sarà skyrim sarà far cry ma con l'arco ho fatto un po' di pratica popolazione ninja aumentata ok chi è sto coso fruga dunque 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 le mie frecce le mie frecce una due tre ora la belva però è venuta e quattro quattro cinque questo è difficile un accampamento difficile andiamo maronna che nicchie so pazzo ma mi fa paura dai belva seguimi seguimi oh yeah forza nicchie si va all'arembaggio diciamo accolgo un po' di legna per fare un po' di frecce all'occorrenza eeeh all'occorrenza oh non mi piace c'è qualche animale brutto perché il mio tigrotto è avanzato più del dovuto si mette male fuoco c'è il fuoco io ho scoperto il fuoco stai lontano brucia maiale brucia allora prendiamo questo e questo andiamo tigrotto che cacchio chi era tu l'ha visto mamma mia quanto è bello avere una tigre dai denti di sangue dai e mo li pigliamo dai e mo li pigliamo a tutti ah se per me ti vorrei andare avanti io e tu rimani un po' indietro no non vuoi vuoi fare tutto da sola dici e magari e ma c'hanno i cacchio degli elmi diciamo e io quei caspita di elmi io quei dannati elmi non riesco a a colpirli in testa no è un problema oh ma questa se mi è mezzo le scatole io voglio pigliare la mira oh oh signora oh 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 la signora che è detta di fuori mi vuole ammazzare oh no oh no sta sta aah qua c'è aah spacco beddo vai e dai e pigre te ne ti asciabbo che cacchio è che mi sta merando oh mio dio la mia tigre come da me non ninja muori no 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 Nooo noooo Oerch excellence! Ho persiccato! eee, An Predator! Bello! 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 Maatta.... Quara parte! Maagna maagna maKeht va bene! Ma serve ancora! Par境, par境! guardi e mira bigliano mamma mia che fatica ok insediamento muro tombo andata di qualche cosa nozza vai dammi tutto quello che c'hai te 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 magna magna che te fa bene fruga ma piglia quello wow centro perfetto preso eh ormai l'ho ammazzato la mia belva è arrivata un po' troppo tardi accendendo e non riesco a scendere chi è? ciao bellezio oddio è arrivata la belva che gli è saltata addosso dov'è quel tizio che va liberato eh no 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 siamo amici 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 addio ho paura del tasso dopo tutto quelli che ho ammazzato pure il tasso si ci mette mio dio tasso con tottiche dai denti di sangue e ci ha messo pure un po' di tempo ad ammazzarla però quando menava a me con un colpo mi toglieva mi toglieva più della metà della vita e invece mi ammazzare un tasso te lo porti? ai ai paura 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 guarda quel poveraccio ho mancato ma si aspetta mentre quello mentre litigano tra di loro perchè mi deve mischiare io piuttosto dovrei andare da questa parte a capire che cosa c'è da questa parte è pericoloso oddio un po' di schifo pelle di lupo bianco raro non mi interessa io avere da fare io voler andare a trovare qualcos'altro da fare no? ahhh questo tasso ma quanto mai ci stanno i tassi così aggressivi dai non ne trovi uno che non è incapolato di sti cose uccisione belva e ci mette pure un mucchio di tempo per ammazzarli sti tassi allora scendiamo chi è? comunque mi sto dirigendo nell'unica direzione in cui non ci siamo mai passati per magari trovare qualche altra cosa di bello la tigre la tigre la tigre dov'è? forse che ce la fai mamma mia siamo delle belve io e lei io e la tigre siamo delle belve non è che mi deve mangiare la mano però cioè io frugo e lei che fa quasi mi stacca una mano ma quanti cacchio ce n'è di sti cosi qua? oh che cacchio c'è là? chi è? yogi non ti mischiare aspetta ci siamo chi è quello? vabbè andiamo 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 lasciamo perdere chi litiga con l'orso perché non mi va di litigare con l'orso piuttosto vorrei che avanziamo mi dica signora mi dica mi dica mi si è raggiunta al menu mappa mi si è raggiunta al menu mappa mi si è raggiunta si e dove sta? a questo tutta roba parecchio lontana che non è una più pallida idea vabbè si braccioli eh signora che non ne vendono di sti tempi allora ci stanno cacciatori udam da tutte le parti libera l'animale ah 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 mangiateli mangiateli mmm buoni buoni bene io vado per i cavoli mia sono inseguito da qualche cosa bene allora ho scelto di venire qua e sto posto mi piace poco e niente è pieno di belve cattive andiamo di qua vediamo che cos'è potrebbe essere un villaggio cattivo a me parano tutti morti a me parano tutti morti ahhh mi ha fatto cagassotta la cimietta ok ok boh non c'è niente di particolare va da che parte potrei andare va oh ma qua mi sa che è chiuso ah è chiuso pensavo che si andava da qualche parte invece no è tutto bello che chiuso potrei andare allora qua va sempre che il tempo c'è basta sempre che il tempo sia sufficiente ok dai ahhh dunque dov'è che devo andare devo andare qua di qua si esce andiamo let's go 290 metri per la felicità salve amigos warpa ti oh oh un winja udam 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 ma va ma va ma va quell'udam devo misurdire guarda 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 che fa con sto sassolino guarda dice oh guarda guarda quanto so forte bravo 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 andiamo ad accoppare udam dov'è quello che chiama i nemici dov'è quello che può chiamare i rinforzi quella maledetta cosa ok let's go sono stati attirati un po' di schifosi eh ma questi eh ma questi fanno schifo sono troppo forti questi sono fortissimi io non capisco come cacchio li dovrei accoppare non morano mai non morano mai ah fatta è schifo dov'è la mia dove è la mia belva oh a casa ho finito le frecce picchialo picchialo ok via a quello via a quello forza a quello la quello e vai mamma mia questi qua li odio raga sono schifosamente forti dai eh oh è andata pure questa ok ragazzi direi che per il momento ci si può anche fermare qui la popolazione ninja è aumentata di non poco vedo se riesco a pigliare qualcosa va bene comunque ragazzi io spero come sempre che questo gameplay vi sia piaciuto lasciate raga un commento un mi piace se vi va e commentate ragazzi ci becchiamo presto ciao alla prossima